Tanti auguri a me, tanti auguri a me, e voi dite perché canti questa canzone, non la devi fare tu, ma comunque devo dire grazie, grazie per tutto l'affetto, la simpatia che mi date ogni giorno, e io dopo queste mille visualizzazioni mi impegnerò ancora sempre di più, fino a quando ovviamente il mio computer mi accompagnerà nella mia vita quotidiana, e dire grazie ancora, voglio fare mille di queste visualizzazioni, anche perché io, visto che l'appetito viene mangiando, voglio crescere, vi darò sempre più, vi offrirò sempre più contenuti, ovviamente nelle mie possibilità, ma cercherò sempre di impegnarmi di più, grazie, l'obiettivo principale di base è già raggiunto, mille visualizzazioni adesso, ve lo dico già, andiamo verso le 2000, ve lo dico, poi ovviamente l'obiettivo, il massimo massimo è un milione, ma spero di arrivare almeno alle 5000, un milione è un po' esagerato, comunque grazie a tutti.